Euroregione News Musica, Priulano, uno dei quattro migliori studi d'Europa Da Pantianicco di Mereto di Tomba, in provincia di Udine gli Angels Wings Recording Studio and Arts Center sono pronti a partire per l'Inghilterra per il Pro Sounds Awards 2016 Monica Zinutti ci spiega di cosa si tratta Premio che danno in base alle varie categorie che sono state preselezionate quindi una giuria ha selezionato quattro per ogni categoria a livello audio quindi tra gli studi noi siamo fra i quattro insomma in Europa e siamo gli unici italiani e ci fa insomma veramente tanto piacere perché è un premio ambito, un premio che dà un grosso riconoscimento perché appunto sono gli studi più grossi, più belli, più preparati e risonanza a livello europeo quindi vuol dire che gli addetti al settore hanno riconosciuto il nostro studio, uno fra questi e quindi ci fa piacere e adesso andremo a Londra il 22 di settembre alla serata e vedremo se saremo proprio il primo studio e io ve lo auguro Dal Medio Friuli per Euroregione News Marco Mascioli I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionews.eu